Un flash, Fernand, rapidissimo. Tu hai giocato contro Di Maria in Spagna? Sì, 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 quando ero a Roma, sì. Cosa puoi dir di lui, così, un flash? Troppo forte. Troppo forte e la cosa bella è che è estremotivato. Adesso è estremotivato. Ha fatto il gol della finale della Coppa America, vuole arrivare nel Mondiale e continua ad ambire la situazione, perché sicuramente con la sua età poteva andare in America, di qua, di là. Tanto andava al Mondiale comunque e lui ha voluto la Juve. Si vede che è estremotivato e che può aiutare tanto la Juve a vincere, che è quello che deve fare la Juve, deve vincere. Certamente.